Buonasera, siamo nella chiesa di San Paolo, al Sorrento, per quest'evento. Professore Maestro Sibilia, dicci qualcosa per piacere. Allora, sarò brevissimo perché siamo quasi per iniziare. Allora, la rassegna appunto è la prima edizione del Sorrento Piano Festival, un festival dedicato esclusivamente al pianoforte, inteso nella sua molteplice reste sia da solista che accompagnatore di voci, di cori e anche per la musica da camera. Gli ospiti di questa sera sono ospiti di eccezione, sono due pregevolissimi insegnanti dei conservatori italiani, parliamo di Marco Schiavo e il maestro Sergio Marcheggiani che viene dal nord, da Alessandria, che però frequenta molto il sud Italia, quindi appunto sono stati ospiti nostri già nella rassegna d'autunno e a gentile richiesta appunto anche da parte del pubblico, li abbiamo rivoluti per l'inaugurazione del festival che costa appunto di appuntamenti quindicinali e che praticamente eseguirà fino a ottobre prossimo. Perfetto. Mezzo Schiavo vuol parlare un po' del programma? Stasera seguiamo tutte le danze ungheresi di Brahms che abbiamo appena inciso dieci giorni fa in Asia e credo sarà il prossimo nostro CD e credo è un programma molto fruibile per il pubblico e speriamo che possa riagire. Piacerà senz'altro. Questo Marcheggiani, due parole anche da parte sua, sì effettivamente siamo riduci da questa fresca esperienza a Singapore per registrare questo CD è un programma che sogniamo da tempo ma che appunto piace sempre molto al pubblico e insomma noi siamo già stati qui con un programma diverso e sorrente sempre... È sempre un piacere ritornare. Sì, io poi venendo da altre parti d'Italia devo dire che... Talle brume. Esatto, dalle brume invernarie di venire qui con questi panorali, questo luogo magnifico apre il cuore, quindi è una gioia. È l'aria che si respira, è un'aria bellissima. Sembra sempre di stare in vacanza. Quanto uno viene assolutamente sorrento e sorrento, la venisola in generale è sempre... Grazie a Paolo che ci sta invitando. Grazie ai maestri noi sperimentiamo questa nuova location perché la musica è fatta di nozioni, e nozioni dell'arte nell'arte. Quindi diffondiamo l'arte musicale con la bellissima arte panorica e con la mostra appunto che sta appunto per terminare la mostra sulle processioni pasquali del Piederdì Santo e quindi vi aspettiamo per i prossimi accuntamenti il primo dei quali appunto sarà quello del pianista Sebastiano Brusco, l'artista romano che però anche banda anche di un app capito internazionale. Grazie, buona serata e buona scuola. E il vostro cd dov'è? Lo possiamo vedere? Adesso abbiamo quello vecchio, che è questo, c'è un po' di promozione, è un cd che è uscito per Decca l'anno scorso, nel mese di maggio, e contiene una selezione di brani per Pieno Parca Quattro Mani di Schubert, e quindi insomma invece il prossimo credo uscirà a fine dell'estate. Bene, sempre per me. Bene, allora non ci resta che ascoltarvi. Il pubblico ci chiama. Il pubblico vi chiama e a fra poco. L'azco della stessa. Ci sono state davanti insieme anfri o RH, all'azco « moniqueDocchia» che continuano in jogar. Grazie a tutti.